Venerdì 11 dicembre 2020, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi si sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso il canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. A tal proposito diamo subito uno sguardo ai titoli presenti nelle due prime pagine, incominciamo con il Gazzettino di Belluno, ecco come si apre l'edizione di oggi. Ulteriore approfondimento riferito al maltempo nel bellunese, titolone maltempo Roma ci aiuti subito. Centinaia di milioni di danni, bottacino l'assessore regionale, dimentichiamo gli schieramenti, il governo intervenga come fece per Vaia. D'Inca, il ministro bellunese rassicura il governo si farà trovare pronto, poi dovremo trovare risorse anche per la prevenzione. L'approfondimento di Zan Benedetti lo troveremo a pagina 2. Il prefetto, emergenza finita ma il territorio è devastato, il territorio è devastato, ci sono danni ovunque. È iniziato ieri il posto emergenza dopo il maltempo ma il prefetto Adriana Cogode lancia un appello a evitate escursioni sulla neve e sci alpinismo per il pericolo di valanghe. Frane e valanghe, troppi turisti sono impreparati, i carabinieri forestali costretti a far fare retromarcia ad alcuni incoscienti e ancora Calalzo, ristorante e pasti gratis ai vigili del fuoco. Fermatevi, una pasta o una pizza ve la friamo noi alla nuova botte del re, il ristoratore di Calalzo Guido Lozza dà pasti gratis ai vigili del fuoco nell'emergenza. Sempre dalla prima pagina del gazzettino di Belluno, l'elezione Ordine dei Medici comincia l'era Capelli e Stefano Capelli, ex primario di medicina trasfusionale al San Martino, il nuovo presidente dell'Ordine dei Medici degli Odontoiatri di Belluno. Cesio Maggiore sponde ponti all'armi in Val Cansoi, gli interventi realizzati nel post-Vaia in Val Cansoi a Soranzene non hanno retto alla forza dirompente dell'acqua che lo scorso fine settimana ha aumentato la portata dei torrenti. L'approfondimento di Scarton a pagina 9. Un richiamo anche all'emergenza coronavirus, virus, altri 249 positivi a Belluno, più tamponi e ancora l'intervento, spettacoli teatrali fermi e artisti in crisi, la provincia mette in scena la solidarietà. La foto di copertina invece è un omaggio a Rossi, Paolo Rossi, calcio in lutto, padrin, sono stato il suo raccatta palle, Rossi emozioni e gol da Ponte a Feltre. Paolo Rossi morto ieri a 64 anni con la maglia del Lane Rossi Vicenza in un amichevole a Ponte contro i Granata locali. A fine anni 70 Pablito e Biancorossi hanno svolto il ritiro precampionato all'albergo Trieste di Eliseo Boto e appunto vediamo uno scatto di quegli anni in provincia di Belluno del calciatore Paolo Rossi. L'approfondimento a firma di Dinka lo troveremo a pagina 13. Passiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso un titolo a piena pagina riferito all'emergenza coronavirus, un dato che deve farci assolutamente riflettere, Veneto 151 morti in un giorno, a Belluno aumentano i ricoveri in terapia intensiva stretta di zaia sui bar, dalle 11 si consuma solo al tavolo. Le regole, Natale e Capodanno arriva alla bonifica, sia gli spostamenti fuori dai comuni, sembra certo ormai il ripensamento del governo, a Natale e Capodanno si potrà uscire dal comune di residenza, l'insistenza e la pressione da parte di molti sindaci ha convinto il governo a rivedere le regole del decreto. E sempre a proposito di coronavirus, case di riposo ancora allerta nella Sersa, migliora a Quero, allerta ancora alta nelle case di riposo di Belluno, dove ci sono una cinquantina di casi positivi, migliora la situazione a Quero, il punto sull'RSA con il direttore del distretto, l'approfondimento di Milano a pagina 14. Altre richiami di spalle, nuovo comandante in servizio, vigili del fuoco in elicottero per controllare le valanghe, viabilità, molte strade e passi chiusi, Val di Zoldo non più isolata. Val di Zoldo tolta dall'isolamento, primi passi riaperti, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Valle di Cadore, a Borgata Giau, cresce la paura per le case sotto la frana, a Borgata Giau c'è angoscia tra gli abitanti per la presenza di una frana sopra il paese. E anche il Corriere delle Alpi rende omaggio alla scomparsa di Paolo Rossi, addio a Pablito e ricordi bellonesi del campione a Ponte e a Lamont. La foto di copertina invece riguarda il maltempo sulle Dolomiti, Bottacin, ci sono 248 smottamenti, serviranno oltre 300 milioni di euro. L'approfondimento di Dalmas a pagina 2. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno per poi passare all'edizione del Gazzettino di Belluno. Le prime pagine riportano sempre alla provincia di Belluno, al maltempo che ha devastato il nostro territorio in quest'ultima settimana del mese di dicembre. Peggio di vai? Assolutamente no, ma 248 frane sono tantissime. L'assessore Bottacin, danni per 300 e 350 milioni di euro. Il primo obiettivo è restituire le strade alle comunità. Gli smottamenti dove gli alberi c'erano, come dimostra l'allagamento di Puos. Questa quindi una delle dichiarazioni dell'assessore bellunese Giampaolo Bottacini in questa intervista di Francesco Dalmas. I parlamentari, Roberto Padrin ha ragione, le aree marginali snobbate, la coperta di risorse e personale è davvero corta. Hanno ragione Roberto Padrin, presidente della provincia e Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato alla protezione civile, a sostenere che è arrivato il momento di avere leggi speciali. Serve un fondo per la montagna, strutturale finanziato. Serve dotazione di personale. Bisogna ripristinare le vecchie province. È la loro convinzione. Queste preoccupazioni, ammette Luca De Carlo, parlamentare di Fratelli d'Italia, sono condivisibili e purtroppo note a tutti. Pagina 3 su Drago 81 per monitorare le valanghi, un battesimo di neve per Del Gallo. Il neocomandante provinciale ha lavoro una settimana prima del previsto, ora stiamo gestendo solo l'ordinario. L'intervista è firma di Cristina Contento. E per chi sta guardando da Facebook o YouTube, il comandante provinciale che vediamo in questo primo scatto dei vigili del fuoco del distretto di Belluno, Antonio De Gallo. Le altre foto sono state scattate dall'elicottero Drago 81 che ha sorvolato i paesi a rischio valanghe. E l'ultima foto, che è questa, dopo la tremenda nevicata dei giorni scorsi, nella immagine a destra, la foto 2, sono visibili i distacchi di neve in quota con fronti molto ampi. Ed ecco appunto qui i distacchi in alta quota che fanno presagire cadute di valanghe e di slavine. Maltempo sulle Dolomiti, pagina 4 del Corriere delle Alpini, Livina Longo vieta ogni attività sulla neve, raffica di valanghe in tutte le frazioni. Due alpinisti avvistati dal soccorso alpino in area a rischio, certo l'elicottero spazza via la neve dalle piante pericolanti. Bressan, grazie a tutti per la vicinanza, le parole dei vigili volontari di Gosaldo e ancora Taibon, valle di San Lucano chiusa, abitanti scortati in paese. A Gosaldo arrivano i tecnici per sistemare la rete elettrica, si valuta una passerella. E sempre a proposito del maltempo, il sindaco si appella al governo, conseguenze pesantissime, gli impianti chiusi con attorno metri di neve, venite a vivere qui per capire cos'è la montagna. Maltempo e Covid, due situazioni lontane ma che vanno a braccetto, metri di neve e nello stesso tempo impianti chiusi fino al 6 gennaio. C'è da mangiarsi le mani e sicuramente lo stanno facendo gli impiantisti che avrebbero volentieri aperto piste e impianti in questi giorni. In Alto Adige i gestori chiedono un'apertura degli impianti almeno per i residenti, con tutte le norme di tutela per il Covid. Difficile pensare che venga accolta almeno per il momento, ma un appello arriva anche da Auronzo. E questo è uno scatto degli impianti di Monte Agudo, la foto è di Giuseppe Paes-Beccher. Obiettivo prevenzione, blackout e strade interrotte, la provincia lancia un piano. Val di Zoldo finalmente libera, pendolari boccata di ossigeno, si avvia alla normalità anche l'attività scolastica. E sempre a proposito del maltempo sulle Dolomiti, ritmi serrati per aprire le strade bloccate. Veneto Strade ha reso transitabile il Duran, Danta non è più isolato, molte provinciali sgomberate, migliora la statale 52. Quindi dati confortanti riferiti alla viabilità della provincia di Beluno dopo quanto accaduto in questi ultimi giorni. Il lavoro di ieri, Ruspa sott'acqua recuperata in cava al Pagota. Le squadre viaggiano al ritmo di 100 interventi ogni giorno, oltre 1000 fino a ieri le chiamate almeno 800 gli interventi in una settimana. Ed ecco in questo scatto la Ruspa in mezzo a un bacino formatosi in una cava. Polemiche social a Sappada, Silvio Fauner bacchetta il distributore innevato. Polemica innevata, l'assessore Silvio Fauner non ci sta e su Facebook spara a zero contro il distributore del paese. L'unica situazione che peggiora di giorno in giorno è quella del distributore Anystation, che oltre a non utilizzare Bancomat, carta di credito, non essere mai presente se non con self-service, ora non sgomberà nemmeno la neve. Mobilità tra comuni, il governo prepara la deroga natalizia. Attesa per Natale, Santo Stefano e Capodanno, la decisione entro il weekend. L'ipotesi è un permesso per chi vive nei centri fino a 15.000 abitanti. Per me la linea è di massima prudenza, stiamo arrivando alla meta, sarebbe grave sprecare gli sforzi fatti finora. Questa è la dichiarazione del ministro Speranza, ministro della Salute. Bene il passo indietro del governo, era una proposta di Italia Viva fino dall'inizio, finalmente ci hanno ascoltati. Questa invece è la dichiarazione di Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva. Arcuri, vaccini assicurati a tutti, nessun italiano rimarrà indietro. Notizia quindi che riguarda l'emergenza Covid-19. Il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, pronta a raddoppiare le dosi, pronto un bando per trovare 3.000 medici e 12.000 infermieri per la campagna vaccinale. Questa è la dichiarazione di Domenico Arcuri. L'infarmaco sarà gratuito e non obbligatorio come deciso da governo e Parlamento, penso sia giusto così. Pagina 10, raggiunta l'intesa su bilancio e recovery, Merkel ricompatta l'Unione Europea, cade il veto di Polonia e Ungheria, via libera al maxifondo da 750 miliardi di euro. Lo sfogo di Conte sotto assedio, sarebbe meglio tornare al voto. Il presidente ne parla con un ministro del PD dopo le minacce di Renzi, pressing them per il rimpasto tra i 5 stelle, l'ipotesi Guerini a Palazzo Chigi. E sempre in merito alla politica nazionale, Zingaretti avverte sia Renzi che Conte, basta risse e rinvii, ma nel PD monta la rabbia, l'idea, un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, boccia il ministro con i rapporti con le regioni, se Matteo fa cadere il governo al voto e lì sparisce. Brindisi e feste, stretta Veneta sui bar, dalle 11 si consuma solo al tavolo, nuova ordinanza di Zaia, notizia quindi che riguarda la regione Veneto, in vigore da domani per ridurre gli assembramenti, Natale e Capodanno auguri con la mascherina. Il presidente non c'è motivo di rinunciare alla zona gialla, decide il CTS. Però la giornata è stata davvero nera in Veneto, la giornata più nera, 151 lutti, 3.904 nuovi casi, 357 gravi, l'immunologa Viola, decidere se introdurre restrizioni o se fidarsi della responsabilità individuale. E questo è il titolo che accompagna questo grafico tabella del Corriere, ovvero la strage, il report dalle 17 di mercoledì alle 17 di ieri, 3.904 nuovi positivi, i 1.860 attualmente positivi, 151 decessi solo nella giornata di ieri, su un totale di 4.634 decessi dall'inizio della pandemia, più 28 ricoveri in area non critica, più 2 ricoveri in terapia intensiva, un calo invece di meno 3 di ricoveri nelle strutture territoriali. Tutto questo per quanto riguarda il Veneto. E il fronte sanitario nel Bellunese, Sersa, l'allerta è ancora alta, situazione migliore a Quero. Il direttore del distretto De Colo non prevede necessità di grandi rinforzi nelle RSA, l'emergenza allagamento a posa ha fatto scattare la solidarietà tra le strutture. Ed ecco uno scatto diffusa dall'assessore regionale Bottaccini, volontari di protezione civile che hanno svuotato i locali tecnici della RSA di POS. Val di Zoldo, Cassola e Santin tornano medici condotti nella valle in difficoltà. A magli estremi i due medici valorosi mettono e smettono camici e ruoli a seconda delle esigenze sanitarie, ma anche non sanitarie, della popolazione isolata. Addio a Paolo Rossi, l'eroe normale dell'Italia Mondial, 1956-2020, l'ultima partita di Pablito. L'ex calciatore si è spento a Siena, lottava da mesi con una grave malattia, ha chiuso gli occhi tra le braccia della moglie Federica, gli ho detto adesso vai. Alcune dichiarazioni in merito alla scomparsa di Pablito sono dolorosamente colpito dalla sua scomparsa, ricordo il suo garbo e l'umanità. Questo il commento di Sergio Mattarella, Federico Capelletti, invece moglie di Paolo Rossi, nel momento in cui stava morendo non se ne voleva andare, l'ho abbracciato forte. Giovanni Trappattoni, ex calciatore ed ex allenatore, caro Paolo, i giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori. Dino Zoff, ex sportiere della Nazionale, intelligente, aveva tutto per stare bene, è un qualcosa difficile davvero da capire. E lo scrittore, grande appassionato di calcio, ricorda il Mondiale 1982, squadra e vittoria coincidevano con l'immagine che avevamo di noi. Baricco, c'era fame di allegria, gli saremo per sempre grati. E andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, andiamo oltre questo inserto del Corriere delle Alpi. Altra notizia che riguarda la regione, il caso all'alfiere del vino bio e di confagricoltura sotto inchiesta per caporalato. Il padovano Lorenzo Fidora, indagato della procura di Verona, le accuse, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. IPM, Banca Popolare di Vicenza, Zonin, sapeva tutto, cacciò sorato perché tacesse Vicenza. Nella requisitorio i 2 PM hanno ricostruito il sistema delle baciate e il presidente è tutt'altro che di rappresentanza la replica mai fatto in broglie. In questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, si vede l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza, Zonin, in un'udienza del processo. Sempre dal Veneto, 21 Invest allarga il portafoglio presa la friulana Ausafer 2. La società di Alessandro Benettoni entra nella meccanica di precisione e adesso ha partecipazione in 22 aziende con vendite aggregate per 1,6 miliardi di euro. Ma passiamo alle notizie che riguardano prettamente la provincia di Belluno, pagina 24. L'UNESCO è un'opportunità e dobbiamo fare di più. Il presidente della provincia, Roberto Padrin, riconosce l'ottimo lavoro svolto dal direttore, ma esorta il territorio ad essere propositivo in un'ottica di crescita e valorizzazione. Le reazioni visalli, concreta e competente, ha indicato la via per il futuro, c'è equilibrio tra conservazione e sviluppo, così la montagna vive. Ovviamente due articoli riferiti alle dimissioni di Marcella Morandini, alla guida come direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO. Altra iniziativa della provincia, a fianco dei lavoratori dello spettacolo in crisi per il Covid, pronto un bando per dare contributi ad artisti e tecnici attraverso una raccolta fondi e video trasmessi in tv. Pagina 26, migliaia di euro per sistemare le frane, mercoledì un cedimento a Travazzoi, il sindaco del comune di Belluno Massaro serviranno più soldi del 2018, si sono innescati sei nuovi smottamenti. E sempre dal capoluogo, stelle e alberi in centro, ma il Covid ferma le cerimonie. L'assessore De Miglia, siamo già al lavoro per la promozione turistica 2021, la foto della città di Simonetto in prima pagina sul periodico Borghi e Città. Ed ecco perché ci sta guardando da Facebook o YouTube uno scatto delle luminarie presenti, in questo caso in Piazza dei Martiri, nel parco della piazza principale del capoluogo bellunese. Pagina 28, feltre, piace del mercato agricolo, banchetti fino all'estate, l'amministrazione proroga l'appuntamento del sabato per tutto l'inverno. L'assessore Bonan, puntiamo ad ampliare il numero dei coltivatori presenti. E sempre da feltre, lavori al pallaghiaccio, la spesa degli interventi cresce di 215 mila euro. Sanità feltrina, azienda feltrina e carenzoni, contesa sul canone d'affitto. La municipalizzata spende troppo per casa colette che ospita donne in difficoltà. L'ente benefico non ha sconti eccessivi, senza quei soldi l'IPAB non sopravviverà. Fonzaso, bocciatura del centro islamico, meglio così, meno divisioni. Fonzaso, il sindaco Giorgio Slongo, soddisfatto della sentenza, ci sarebbe stata un'alzata di scudi da parte della popolazione. Il primo cittadino ospica che il privato riesca a trovare un altro acquirente. Sempre da Fonzaso, confronto sull'energia con Simone Tagliapietra. Per maggiori informazioni, visitate il sito del comune di Fonzaso. Da Longarone accumulo immondizie, c'è maleducazione ma restano le criticità. Ancora rifiuti lasciati fuori dai contenitori interrati del centro, sono montati male e troppe volte non funzionano bene. Ancora da Longarone pagamento tari, il comune è disposto a offrire dilazioni. Altre notizie brevi, Falcada alle 18.30, la nuova sede per i gruppi di soccorso va in consiglio. Longarone e San Nicolò, casa per casa dai bambini di Codissaco. Soverzene, il sindaco meno danni con le opere appena finite. Sedico, casa di riposo, al vaglio le migliori strategie per un Natale sicuro. Intanto il sindaco rivolge un accorato appello ai cittadini. Il virus si fa sempre più largo tra noi, siamo più attenti. Ed ecco alcune dichiarazioni del sindaco del comune di Sedico, Stefano Deonna. La struttura resta in pratica covid-free, la positività segnata da un dipendente assorbita senza danni. Per le festività si lavora ad un protocollo ferreo, che però consenta a tutti gli anziani ospiti di vedere i familiari. Agordo, la Proloco cerca foto della conca per il proprio ufficio. E ancora dalla Gordino e da Sedico, in distribuzione ai calendari 2021 di Valpe Ambiente. L'azienda raccomanda di prestare grande attenzione alle nuove cadenze. Fissate annuncia una serie di novità per i mesi a venire. Patina 32, Cortina, per noi la montagna è vita. Domani flash mob contro le restrizioni del DPCM. Luci spente per 5 minuti, distanziati e con la mascherina, i rappresentanti delle categorie ribadiranno l'assordità delle decisioni. Winter Race, dal 4 al 6 di marzo, recupero dell'edizione 2020, confermati 50 equipaggi su 400 chilometri del percorso attraverso 8 passi. E ancora dal Cadore alla scoperta di Cortina come in un film, creati tre nuovi itinerari insieme all'università. Progetto per dare impulso al turismo cinematografico sotto le tofane, sfruttando legame con la settima arte che è nel DNA della conca. Valle di Cadore, Borgata Giao, preoccupazione per le case, l'area a Monte della Frazione è a forte rischio valanghivo. Già dopo vai e le recenti piogge hanno aggravato la situazione. L'opposizione chiede un dibattito in consiglio, una volta che i tecnici avranno relazionato. Ed ecco alcuni scatti della situazione della Borgata Giao a Venas dopo le piogge degli ultimi giorni. Alto Belunese, fondi aree confine, firmato il bando, un milione a comune. Pieve di Cadore, sezione CAI, partita la campagna, adesioni nel 2021, in arrivo, novità. Prima di leggere le previsioni del meteo, passiamo all'edizione del Gazzettino di Belluno. Ovviamente con un approfondimento sul maltempo, fondi, attendiamo il governo. L'assessore regionale alla protezione civile, Bottacine, mi aspetto che Roma intervenga come avvenne per Vaia. Arrivano le rassicurazioni del ministro belunese d'Inca, in tempi rapidi arriveranno aiuti per far fronte ai danni. Ci sono opere molto urgenti, sistemare la provincia del 251 è essenziale per la Val di Zoldo. La provincia bisogna prevenire ulteriori disagi, soprattutto per quanto riguarda l'isolamento. Il caso, la protesta degli sfollati di Perrorolo, non fateci passare Natale fuori casa. Ricevuti dal prefetto e residenti minacciati dalla frana Busa del Cristo, tanti studi, mai visti i risultati. E a proposito del prefetto, al territorio è devastato ovunque, evitate escursioni e scialpinismo. L'appello del prefetto co gode, l'emergenza è finita, ma il rischio valanghe resta altissimo. Ieri le ultime riunioni a Palazzo dei Rettori, nessuna richiesta di soccorso, chiusa l'unità di crisi. E sempre dal maltempo, ulteriori approfondimenti anche dal gazzettino di Belluno, così salviamo i turisti impreparati. Il lavoro dei carabinieri forestali di Meteomonti in prima linea, in questi giorni sui siti a rischio, nelle zone rosse degli schianti. Con sci e pelle di foca sono saliti nelle aree per le misurazioni e poi hanno dovuto discutere con vacanzieri indisciplinati. Il virus ferma gli spettacoli, scende in campo la provincia, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. E a proposito invece di emergenza, coronavirus positivi e rinimazioni continuano a crescere. L'USL intanto ha nominato nuovi primari. L'elezione Ordine dei Medici via libera, via all'era Capelli. Tre donne in consiglio, primo commento degli eletti, i prossimi quattro anni per promuovere il confronto e valorizzare la professione. Ospichiamo un cambio di passo da parte della futura direzione USL. Questa è la prima dichiarazione del neoeletto presidente Capelli e presidente dell'Ordine dei Medici di Belluno. RSA di Cusighe, il comune batte cassa in provincia. Palazzo Piloni rivendica il diritto all'esenzione dell'Imu perché la struttura è ad uso pubblico. Altre notizie in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Piano da 100 mila euro per i cimiteri. Notizia che riguarda sempre il capoluogo bellunese a Sois. Sarà anche sistemato l'accesso per procedere all'avvio dell'opera. Serve però una variante di destinazione d'uso e una vinca. La denuncia della morsa del fango serve più attenzione. Pingitore punto al dito. Il campo santo di Cusighe ha problemi strutturali. Passiamo a pagina 8. Feltre, mercato contadino prorogato a giugno. Notizia che abbiamo già trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Andiamo oltre invece con un approfondimento che ci porta a Cesio Maggiore. In questa edizione del Gazzettino, Valcanzoi danneggiate le opere post-Vaia. Il maltempo dei giorni scorsi ha compromesso la tenuta delle sponde del torrente rifatte dopo la tempesta del 2018. Chiuso anche il ponte a Soranzene, ricostruito dopo quella devastazione. Tecnici al lavoro per decidere come procedere. I fiumi gonfiati dalla pioggia continua dei giorni scorsi hanno eroso gli argini e compromesso la sicurezza. Notizia anche da Seren del Grappa. In questa edizione del Gazzettino di Belluno dal comune 26.000 euro per la casa di riposo e l'asilo. Borgo Valbelluna, contributi ai sodalizi. Domani, ultimo giorno per le richieste, saranno favorite le associazioni locali con iniziative di volontariato. Sedico, colonnine di ricarica green. Il comune cerca un gestore. Previsti due stalli con rispettivi impianti per consentire il pieno alle auto elettriche. La giunta sposa la linea del rispetto ambientale partendo dalla mobilità. Cortina, snowboard e luci ridate nella gelida sera del Faloria. Domani alle 17 si alza il sipario sulla competizione mondiale. Prima tappa, la soddisfazione degli organizzatori. Una vera sfida in tempi di pandemia. E sempre da Cortina, nuovo ponte. La fase cruciale è iniziata ieri. Scaricate le piastre di cemento che conterranno le colate per i pilastri del manufatto sul Bigontina. Rimaniamo in Cadore. Appello del sindaco per il pediatra Cherubin. Affidatevi la cura dei vostri figli, altrimenti perderemo il servizio. Pieve di Cadore. Il CAI con il vento in poppa apre le porte ai nuovi iscritti. Siamo arrivati alle pagine sportive. Pagina 13. Un approfondimento del gazzettino in ricordo di Paolo Rossi. Un articolo a firma di Dincacque. Il gol di Pablito tra Ponte e Feltre. Appassionati belonesi commossi dall'improvvisa scomparsa di Paolo Rossi. I ritiri all'albergo Trieste con il Vicenza. Nei ricordi di Emanuela e Francesco Voito. Lela dalle imprese con Carolina Morace alle stati di fine anni. 70. Persona squisita sempre disponibili. E ancora Checco se lo trovò di fronte quando militava nel Genua. E mio padre Eliseo festeggiò Spagna 82 con la Nazionale. Nell'ultima intervista il grande affetto per Ernesto Galli. Come un fratello affiatati. Paolo con Ernesto Galli perché si sta guardando in questo scatto. Centravanti e portiere dell'indimenticabile Lanerossi. Vicenza. Maurizio Paniz. Noi due insieme a Longarone. Parlando anche di Vaionta alla gelateria Perin. Un ricordo quindi anche dell'avvocato belonese. Nonché presidente onorario dell'associazione belonesi nel mondo. Questa è una sua dichiarazione. Il bomber azzurro quando giocavo con il Perugia. Li segnai su rigore. Ma ero dispiaciuto. Fu lui a rincuorarmi. Sempre dallo sport. Talento ad alta densità. Nei weekend. Sappada a 1200 abitanti. Porta un trist di atleti nelle varie coppe del mondo. Proprio come Cortina. 6000. Un costante serbatoio azzurro. Per sci, biatron e con i fratelli Gaspari per skeleton e snowboard. Ed ecco in questo scatto Emanuele Buzzi, Elisa Vitozzi, Sappadini. A destra Mattia e Giulia Gaspari di Cortina. Dan Pezzo. Calcio. San Giorgio posticipato. Il ritorno in campionato. La trasferta di domenica a Trento. Rinviata a mercoledì. Derby con Feltre il 30 di dicembre. Passiamo all'agenda del Gazzettino. Nocciole magiche nel dolce autoctono. Il pasticciera al pagotto Ivan Centeleghe ha inventato una torta composta dai frutti di coltivazioni della conca della varietà gentile delle langhe. Protagoniste di un'antica favola sull'origine del lago. Ed ecco l'artefice protagonista di questo nuovo dolce bellunese. L'iniziativa Torna Boschi a Natale tra Moldoi e Venadoro. Torna anche quest'anno tra Sospirolo e Ponte nelle Alpi. L'iniziativa Boschi a Natale. Manifestazione promossa dall'UMPLI regionale. del Proloco. Si tratta di visite guidate alla scoperta della natura. In provincia saranno le Proloco di Ponte nelle Alpi e la Monti del Sole di Sospirolo a organizzare gli eventi. Entrambi la domenica. Prima di salutarci passiamo alla lettura delle previsioni meteo in Veneto per la giornata di domani. Cielo molto nuvoloso con copertura più compatta a inizio giornata e qualche probabile schierita in seguito. Precipitazioni in probabilità in calo da medio-bassa nelle primissime ore. e bassa in seguito per modesti fenomeni da sparsi a locali con un po' di neve fino a gran parte dei fondovalle dolomitici sulle prealpi. Venti in quota per lo più deboli, altrove generalmente deboli con direzione variabile salvo alcuni moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulla costa. Mare poco mosso verso sera a largo, per il resto prevalentemente quasi calmo. Temperature in contenuto aumento in quota, altrove contenute variazioni di carattere locale con minime generalmente raggiunte a tarta sera. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina a Luna, ora locale italiana. A tutti voi un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione bellunesi nel mondo.